profilo dell'os attività previste allegato a aiuto domestico e alberiero assistenza persona non autosufficiente nell'igiene attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico collabora al mantenimento delle capacità psicofisiche residue miglioramento riattivazione recupero funzionale attività ricreative collabora con il personale nell'assistenza del malato terminale cura nell'ambito di vita igiene e cura dell'ambiente intervento igienico sanitario problem solving e raccolta dati assieme alla famiglia e caregiver collabora negli interventi valuta per quanto di competenza e propone soluzioni possibili supporto gestionale formativo annotazioni utili ai fini collaborativi collabora alla verifica della qualità del servizio concorre alla formazione valutazione dei tirocinanti frequenta corsi di aggiornamento collabora anche nei servizi di non ricovero ok Grazie.